Caffè in camper, ecco 5 modi di farlo e infine la recensione del nostro prodotto preferito. Come sempre prima di procedere vi chiediamo un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. Un'operazione che a voi non costa nulla ma per noi è veramente molto importante. Vi ricordiamo anche che abbiamo creato una community su Telegram, è un gruppo che appunto si chiama Community di 5 in camper, ci trovate lì con tanti appassionati di camper per discutere di vari argomenti e abbiamo discusso anche di caffè e quale potesse essere lo strumento migliore per realizzarlo in camper. Noi abbiamo raccolto tutti i suggerimenti, pertanto avremo questa maxi comparativa e soprattutto uno degli oggetti non lo abbiamo con noi perché è un pochino particolare ed è stato proprio un membro della community a fornirci il video e a raccontarci come funziona questo oggetto ma lo vedremo tra pochissimo. A noi piace il caffè e sono sicura anche a tantissimi di voi e non volevamo rinunciarne ad avere uno buono anche sul camper e così ci siamo messi un po' alla ricerca di quello che potesse essere il migliore. Ovviamente tutti quanti hanno una moca e noi per lungo tempo abbiamo utilizzato questa. I vantaggi della moca sono che ovviamente è di facile utilizzo però magari sul gusto non tutti sono particolarmente appassionati specialmente quelli che amano l'espresso. Infatti noi apparteniamo a quest'ultimo gruppo, non ce ne vogliano i puristi che ritengono la moca il vero caffè, è un gusto che a noi non aggrada moltissimo però di fatto va riconosciuta la sua semplicità di utilizzo, in qualsiasi condizione basta un po' d'acqua, polvere di caffè e un fornello anche da camping esterno, in qualsiasi situazione un caffè si tira fuori insomma. Un'altra possibilità è fare il caffè solubile, questa in assoluto probabilmente è la più veloce e più facile perché basta avere un po' di acqua calda, un cucchiaino e il gioco è fatto. Esistono anche poi le versioni cappuccino per chi non ama particolarmente il gusto del caffè che assomiglia un po' a quello americano. Esatto, poi tra l'altro è facilmente realizzabile perché ripeto, bastando un pochino d'acqua calda, per cui non bollente come per una moca per realizzare un vero caffè, è possibile utilizzare anche dei bollitori, esistono anche nella versione con presa accendi sigari, per cui senza necessariamente fermarsi e aprire le bombole del gas, per un caffè al volo mentre si sta guidando potrebbe essere una soluzione che a chi piace come gusto potrebbe essere comunque una soluzione efficace e realizzabile in poco. E poi ci sono le macchine espresso, ovviamente per utilizzarle al 100% della loro funzione è necessario avere un inverter perché se no si è dipendenti sempre dalla colonnina della rete elettrica e poi anche in questo caso c'è da aprire una parentesi perché non tutte sono in grado di supportare la potenza assorbita. Le macchine a braccio e quelle a cialde necessitano di una potenza minore per cui è più facile gestirle. Quelle a capsule come queste invece hanno un assorbimento maggiore. Inoltre molto spesso le capsule devono essere smaltite nell'indifferenziato per cui è una scelta un pochino poco ecologica. Noi abbiamo faticato non poco a trovare queste che sono delle capsule compostabili per cui è una scelta un pochino più sostenibile diciamo. Per quanto riguarda invece le altre due, quelle a braccio e quelle a cialde, la prima magari è un pochino meno pratica da gestire con la polvere. Forse la soluzione migliore è quella appunto a cialde perché appunto noi abbiamo individuato una macchina in particolare. E' la DD prodotta dalla marchio DDS. Cioè ve lo garantisco non è un scioglilinguo, non scherzo si chiamano veramente così. E' detta da un perugino con tutte queste D. E' fantastica, sembra quasi il classico scioglilingua, brodo de dado per riconoscere la nostra provenienza. Però è un marchio che a noi piace molto e anche la macchina ci piace molto perché è compatta, assorbe solo 450 watt. E soprattutto oltre ad essere rivenduta nelle grandi catene e nei classici store online, si trova anche nei centri di riparazione. Quelli un pochino più blasonati che riparano anche gli aspirapolveri, il robot da cucina, un pochino costosetti. Pertanto ha un'ampia rete di distribuzione, di rivendita, di riparazione e si trovano anche tutti i ricambi e che ricordiamo essere made in Italy. Esiste in verità un'altra macchina espresso a 12V che però noi non abbiamo provato quindi non ci sentiamo di parlarne perché non sappiamo effettivamente cosa spiegarvi. Sì abbiamo visto qualche immagine online, non abbiamo capito chi la distribuisce, chi la rivende. Sappiamo solo che è pensata per l'uso in movimento perché non ha per esempio la chiusura, è a vite, non ha tutte queste parti mobili che ha una macchina domestica. È pensata appunto per l'uso in viaggio a 12V però ripeto non l'abbiamo mai provata, non conosciamo nessuno che ce l'ha e non abbiamo nessun titolo di feedback attendibile. Per cui la lasciamo un po' così. La menzioniamo dicendo che esiste ma non sappiamo esattamente come funziona e la sua efficacia. Il quarto tipo invece è la handpresso che ci ha mostrato Alessandro di Camper Life che fa parte anche della nostra community. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ci ha inviato appunto all'interno del gruppo Telegram dei video del loro funzionamento. Le handpresso sono di due tipi, quella manuale che ha bisogno di un'acqua per riscaldata quindi vi dovete attrezzare scaldando l'acqua e poi mandate in pressione l'acqua con una pompetta come quella della bicicletta e poi esiste quella a 12V per cui avete bisogno dell'elettricità però fa tutto da sola, manda in pressione l'acqua e quindi la riscalda subito e quindi avete un caffè pronto. Poi ovviamente ce ne sono anche di altre marche similari e diversi modelli anche sempre la stessa handpresso però resta il fatto che principalmente si possono trovare nella versione con polvere, con cialde nel formato ESE oppure nella versione capsule. Stara a voi poi scegliere, noi ci sentiremo di consigliare la prima versione perché quella che ha è la soluzione diciamo più ecologica in quanto come dicevamo sia la polvere che le cialde ESE poi si smaltiscono sull'umido per cui non hanno grosso impatto a livello ecologico. Il quinto modo è la camira che ha la semplicità della moca ma il gusto dell'espresso. Ed è stata proprio quest'ultima la nostra scelta definitiva perché forse non è la più immediata nel processo di realizzazione ma è quella che un pochino di più sposa il nostro approccio che abbiamo avuto nel camper infatti noi non abbiamo inverter, non abbiamo grosse ammennicoli nel senso ci siamo affidati all'essenziale forse magari con delle scelte anche alle volte smart inusuali come quella che strizza l'occhio la tecnologia ma cercando sempre di avere una certa indipendenza dal punto di vista energetico e questo è quello che ci permette di avere il massimo risultato in modo più semplice e come anticipavamo questa dunque sarà oggetto della nostra recensione. La camira arriva in una confezione di cartone dove all'interno c'è la macchina stessa, il braccetto e la guarnizione guarnizione che va applicata sotto all'attacco, l'uscita dell'acqua dove proprio si collega il braccetto va posta solo la prima volta e poi non rimane lì per tutto il tempo. Nel nostro caso abbiamo preso come optional il braccetto per realizzare due caffè e inoltre una cosa molto carina che è possibile avere tramite camira è la personalizzazione grafica c'è un set preimpostato di immagini che potete scegliere oppure opzionalmente potrete decidere di personalizzarla con una scritta o come nel nostro caso in un logo. E' una cosa molto carina anche per fare un regalo per molteplici occasioni. Come vedete la camira è tutta fatta in acciaio e noi questi giorni l'abbiamo utilizzata non solo qui in camper per fare le prove ma anche a casa dove abbiamo un piano induzione e questo è stato particolarmente comodo il fatto che sia in acciaio proprio perché sull'induzione almeno funzionava perché la moca normale invece è fatta in lega d'alluminio e non è mai utilizzabile a meno che bisogna prendere una fatta apposta per l'induzione. Per prima cosa andiamo a mettere l'acqua nel serbatoio. Allora ci dobbiamo assicurare che questa leva sia messa in posizione orizzontale. Alziamo il coperchio e riempiamo il serbatoio per metà. Adesso facciamo defluire l'acqua aprendo la leva e mettendola in posizione verticale. Nel caso l'acqua non dovesse scorrere basta inclinare un pochettino la macchina perché potrebbe formarsi una piccola bolla d'aria. Quando il serbatoio sia svuotato richiudiamo la leva e la rimettiamo in posizione orizzontale. Solo a questo punto dobbiamo chiudere il coperchio. Mettiamo il bicchiere qui sotto ed andiamo a accendere il gas. Questa operazione serve per scaldare sotto il serbatoio in modo tale che poi il caffè che andremo a fare verrà su velocemente. Tra l'altro in questo modo faremo espellere i residui di caffè fatto precedenza da qui sotto dal filtro. Infatti se si guarda dentro poi qualche granello di caffè nero utilizzato si vede sempre insomma. L'acqua quando smette di defluire piano piano comincia ad uscire un pochettino di vapore e a quel punto che spegniamo il fornello ecco si comincia ad uscire il vapore a questo punto possiamo spegnere il fornello ed aprire piano piano la leva rimettendola in posizione verticale. Questo servirà a eliminare la pressione all'interno della macchina. Esatto questa è un'operazione che adesso si può fare un pochino più tranquillamente perché non essendoci il braccetto non c'è grossa pressione ma dopo vedremo che è un'operazione da fare molto lentamente. Bene possiamo quindi rimettere la leva in posizione orizzontale riapriamo il coperchio e ricarichiamo l'acqua se vogliamo fare un caffè mettiamo mezzo serbatoio mentre se ne vogliamo fare due lo dobbiamo riempire fino quasi all'orlo. A questo punto esattamente come prima dobbiamo riaprire la leva siccome la caldaia è calda solitamente l'acqua va giù molto velocemente sentirete anche un rumore possiamo rimettere la leva in posizione orizzontale e possiamo richiudere il coperchio a questo punto andiamo a caricare il braccetto con la polvere di caffè ecco riempiamo senza pressare in maniera esagerata si viene consigliato di riempire fino a sbordare dare qualche colpetto d'assestamento e poi livellarlo esatto quindi faremo così e poi adesso io utilizzerò il cucchiaino per fare un'unica operazione l'andiamo a livellare in questa maniera ecco fatto a questo punto siamo pronti per montare il braccetto del caffè una piccola chicca il braccetto è possibile montarlo sia in questo modo che dal lato opposto sarà una piccola accortezza che apprezzeranno i mancini esatto mettiamo qui sotto il bicchiere e andiamo a riaccendere il fornello allora a questo punto il fornello deve essere messo a tre quarti a tre quarti dopo qualche secondo comincerà ad uscire il caffè eccolo quando la tazza adesso possiamo rialzare la fiamma e metterla diciamo al massimo aspettiamo che esce il caffè vedete quando siamo arrivati diciamo alla metà della tazza possiamo andare a spegnere il fornello eccolo qui vedete che crema che viene su è molto corposa adesso viene giù piano piano questo è il momento in cui dobbiamo andare ad aprire la leva facendo attenzione delicatamente perché stiamo scaricando la pressione della macchina quindi attenzione sì perché potrebbero schizzare un pochino d'acqua calda bollente residua sentite il rumore piano e il nostro caffè è pronto guardate un po' che crema è veramente densa e consistente e vi assicuro che anche il sapore è veramente eccezionale perché il caffè in questa macchina non brucia anzi vi dico per finire di bere il caffè avete bisogno del cucchiaino per prendere la schiumina è densissima è veramente veramente gradevole guardate non si smonta davvero un ottimo caffè vi abbiamo raccontato dunque tutti i modi che ci sono per fare il caffè se ovviamente secondo me ne abbiamo saltato uno abbiamo detto delle imprecisioni o castronerie come so al dirsi vi invitiamo a farcelo sapere qui sotto nei commenti e magari a discuterne all'interno della nostra community su telegram community che continuiamo a ringraziare per gli spunti e le riflessioni ancora una volta Alessandro di Camper Life membro attivo della nostra community come sempre tutti i prodotti di cui abbiamo parlato hanno il link qui sotto quindi se avete voglia di andare a visionare a curiosare qualcosa li trovate qui anche per questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio sempre qui su 5 in camper 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 Grazie a tutti